E approfondimenti popsofici su Marx. Marx fa parte di quei filosofi che non si sono limitati a interpretare il mondo, ma si domandavano se il suo mondo poteva essere cambiato. Perché è importante Marx? Perché pochi filosofi come lui hanno influenzato lo sviluppo della civiltà occidentale, tanto in filosofia quanto nelle arti e nella società, e non solo come fonte di ispirazione, ma anche come nemico da abbattere e da confutare. Il materialismo storico poi è uno strumento di indagine che ha trovato e trova tuttora larghissima applicazione nella critica letteraria, in filosofia e in tutte le discipline storiche. Ma quali elementi del suo pensiero sono ancora attuali? Moltissimi. Tanto che ancora gran parte delle analisi di Marx sono oggetto di dibattito acceso, vibrante, specie per quanto riguarda l'economia. Le teorie di Marx, che sembravano ormai totalmente obsolete, sono state riportate in auge dalle attuali crisi recenti, crisi economiche, e godono di grande interesse, specie fra quelli che apparentemente sono stati i suoi più convinti detrattori, cioè investitori e broker di borsa. E questo è un aspetto molto molto interessante. Dal punto di vista dell'analisi sociale, la divisione attuata da Marx in due classi contrapposte appare superata e per certi versi troppo semplicistica. Tuttavia, al giorno d'oggi, non si è ancora affermata una visione alternativa che abbia riscosso un uguale successo. E il posto occupato da Marx come teorico dei rapporti sociali resta ancora vacante. Nell'arte, molti artisti si sono definiti marxisti. Vladimir Majakowski, morto nel 1914, i pittori Diego Rivera, morto nel 1957, e Renato Guttuso, morto nel 1987. Tre artisti che hanno avuto a che fare col pensiero marxiano. Majakowski arriverà a suicidarsi perché non riusciva a sopportare il divario fra idea e realtà. Lo stesso Guttuso non riuscirà mai a evitare per tutta la vita la contraddizione di essere marxista e di essersi arricchito attraverso il mercato dell'arte, di essersi arricchito in una società capitalista. Quindi queste contraddizioni ci saranno tantissimo. E dal punto di vista della cinematografia, Einstein, Einstein, il maestro dei maestri dei più grandi registri di tutti i tempi, anche se per me il più grande registri di tutti i tempi resta Stanley Kubrick, ma rischio di essere monotematico. Einstein è morto nel 1948. In Italia noi, il maestro Einstein, lo conosciamo per la celebre battuta del secondo tragico Fantozzi nel 1976 di Luciano Salce, ricorre anche al centenario di Luciano Salce, un grande maestro dimenticato. Salce è un grande del cinema italiano, un grande intellettuale e autore che deve essere assolutamente riscoperto. La battuta era ovviamente sulla Corazzata Potionkin, cambiata da villaggio in Corazzata Potionkin. La Corazzata Potionkin è un film del 1925, ancora guardibilissimo, non è vero, l'unica cosa su cui aveva torto villaggio, una delle poche cose su cui aveva torto villaggio era appunto che fosse una boiata pazzesca. Invece La Corazzata Potionkin è ancora oggi un grande capolavoro e la visione è piacevole, dura appena 75 minuti, quindi non è quella lunga ignata per cui i dipendenti della Ita al Sider volevano sparare, i fantoziani volevano spararsi. Per i suoi scopi didattici, immancabile, la scena del marinaio che con un calcio fa rotolare per le scale il Pope ortodosso che tenta di persuaderlo a non ammutinarsi mostrando in una croce, quasi fosse un vampiro dimostra la croce, vero e proprio marxismo per immagini. Ancora più marxista è la struttura del film che è priva di un protagonista e il protagonista, il vero protagonista, è il popolo. Poi c'è i compagni Mario Monicelli, un film del 1963 dove un professore, Sinigaglia, un grande Marcello Mastroiani, si mette alla testa di un gruppo di operai tessili con risultati disastrosi. Per quanto riguarda la narrativa, invece, un grande classico che servì da avere proprio catechismo per generazioni di militanti è Il tallone di ferro, edito da Feltinelli di Czech London, quello che oggi definiremo un'opera di fantascienza, o meglio, di fantapolitica, scritta nel 1908. Il romanzo è oggi purtroppo poco letto, ma merita di essere riscoperto. Lasciamo il link in descrizione. Ottima la prefazione di Goffredo Fofi nell'edizione di Feltinelli e preziosa inoltre la lettera scritta da Trotsky alla figlia di Jack London nel 1937, quando London era già morto a 15 anni, la quale, oltre a fornire spunti di riflessione, è una testimonianza storica dell'influsso del libro sul movimento socialista. Altro romanzo di fantascienza che risente molto delle teorie marxiane circa la divisione in classe è La macchina del tempo di Wells. pubblicata nel 1895, che può essere considerato come una visione alternativa a quella di Marx circa i rapporti tra borghesia e proletariato. Dalla stessa opera è stato tratto un film che merita sicuramente di essere visto all'uomo che visse nel futuro di George Paul, sebbene nella pellicola l'aspetto sociale su cui insisteva Wells passi decisamente in secondo piano. L'accostamento più stimolante e fruttuoso per quanto riguarda l'opera di Marx è forse quello con gli scritti di un artista che ebbe un atteggiamento profondamente conflittuale critico più che con Marx con i marxisti. L'inglese George Orwell morto nel 1950 i due suoi romanzi più celebre La fattoria degli animali e il 1984 parlano anche e soprattutto dei drammi che possono scaturire dal mettere in pratica una società ispirata ai dettami di Marx come si è tentato di fare in modo disastroso nel secolo scorso. Un esercizio di grande interesse è quello di cercare di capire quali delle nefandezze denunciate da Orwell siano direttamente attribuibili a Marx e al suo pensiero e quali invece siano attribuibili all'operato dei suoi seguaci e quali non abbiano niente a che fare né con gli uni né con gli altri. Questo è un dibattito che nello scorso secolo è stato portato avanti poco e male e che con la dovuta distanza storica acquista un'interessante prospettiva. Marx è uno di quegli autori che ha influenzato tantissimo il pensiero e deve essere come dire deve essere posto deve essere sempre studiato come anche come documento storico sicuramente l'importanza storica micidiale e deve essere posto all'attenta come dire analisi degli studiosi ultimamente qualche anno fa Diego Fusaro per esempio ha riscritto un libro che ho scritto un libro polemico ben tornato Marx il professore Umberto Curi per esempio sempre offre la distanza su cosa ha veramente detto Marx e cosa poi hanno combinato gli uomini interpretando Marx dando una loro interpretazione di Marx diceva che a un certo punto dei seguaci di Marx portarono al maestro un compendio delle sue idee e lui leggendo questo compendio in ordine dicendo se questo è il marxismo io Marx non sono marxista ultima curiosità già in Italia il pensiero marxista è arrivato in modo sbagliato perché in Italia arrivò tramite un compendio di Carlo Caffiero del Capitale ma era un compendio tutto sbagliato Caffiero aveva capito poco o niente aveva trasposto in modo grossolano il pensiero del maestro e quindi già noi in Italia all'inizio del novecento avevamo già una visione falsata del pensiero di Marx tramite questo compendio di Caffiero cosa che succederà anche tutta la questione di Nietzsche della sorella Elisabeth tutto il discorso della denazificazione del pensiero niciano e cosa anche sul d'annunzio vedremo anche tutte le cose che sono state attribuite ad annunzio niente questi pensatori questi grandi pensatori devono essere scrittori devono essere sempre messi in mano agli studiosi agli che in modo scientifico portino alla luce veramente in modo anche filologico il vero pensiero di questi di questi autori poi si sa sempre che uno dice e quelli che ascoltano realizzano o pensano o interpretano quello che viene detto il pensiero che viene detto in modo c'è sempre un tradire un tradurre un tradimento di quello che uno ha detto è innegabile noi uomini interpretiamo sempre sono sempre esseri interpretanti e vediamo sempre non vediamo mai la realtà per come è ma vediamo sempre la realtà per come siamo quindi nel dibattito è interessante vedere cosa ha detto anche questo è importante negli studi di filosofia cercare di capire che cosa ha detto veramente un pensatore e come quel pensatore la ricezione di quel pensatore da parte di chi lo ha traghettato e di chi lo ha interpretato di chi